Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, le notizie di politica dell'attività istituzionale nei servizi in questa prima puntata del nuovo ciclo di trasmissioni. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato le misure integrative del sostegno all'inclusione attiva. Sono previsti 12 milioni di euro per integrare le risorse messe a disposizione dal Governo nazionale. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato con 13 sì della maggioranza e 8 astensioni dell'opposizione la risoluzione della prima commissione sulle misure integrative del sostegno all'inclusione attiva. Sono previsti 12 milioni di euro per integrare le risorse del Governo nazionale. Complessivamente per l'Umbria sono a disposizione 60 milioni di euro fino al 2018. Le misure regionali sono suddivise tra 10,6 milioni per il sostegno all'occupazione di disoccupati e inoccupati e 5,6 milioni per l'inclusione sociale e lotta alla povertà. Ai 10 milioni di risorse, POR-FSE si sommano quelle disponibili per la concessione di incentivi a favore delle imprese che assumono i soggetti beneficiati di misure integrative regionali, che così arrivano a 12 milioni. Tali risorse permetteranno di estendere la platea dei beneficiari anche a disoccupati e inoccupati adulti da almeno sei mesi in condizioni reddituali di nucleo di basso livello per inserirli nel mondo del lavoro. Gli interventi del SIA sono destinati a famiglie con minori e in particolare a quelle con disabili e alle persone vulnerabili con ISEE fino a 6 mila euro, di età compresa tra 18 e 65 anni, con particolare attenzione alle fasce di età intermedie dai 45 ai 55 anni senza minori. Per la maggioranza si tratta di una risposta ai tanti umbri che vivono sotto la soglia di povertà e che negli ultimi anni purtroppo hanno pagato a caro prezzo la crisi. Mentre per le opposizioni le risorse sono insufficienti. Secondo la Giunta si tratta di una svolta nella lotta alla povertà in questa regione all'inclusione sociale con un'azione di sistema. Approvata all'unanimità la mozione della Lega Nord sulle verifiche da effettuare nella discarica le crete di Orvieto. I particolari in questo servizio. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la mozione presentata dai consiglieri della Lega Nord Emanuele Fiorini e Valerio Mancini con l'aggiunta di un emendamento parzialmente sostitutivo proposto dai consiglieri di maggioranza. Riguarda l'impegno della Giunta a verificare che nella discarica le crete di Orvieto i soggetti competenti attivino tutti i controlli previsti dalla normativa vigente anche avvalendosi di ARPA e di tutti gli strumenti tecnologici incluso il georadar al fine di escludere l'eventuale presenza di rifiuti pericolosi. Bisogna dare risposta ai cittadini ha detto in aula il capogruppo della Lega Emanuele Fiorini e sapere cosa è stato conferito in discarica nel tempo dopo le risultanze accertate sulla presenza di mercurio e l'incremento dei casi di tumore a bagni e nelle frazioni. Prima della discussione in aula i rappresentanti dei comitati cittadini dell'Orvietano hanno incontrato i capigruppo dei partiti e hanno chiesto di conoscere l'esito della procedura di valutazione impatto ambientale per sapere cosa è sotterrato nel primo calanco della discarica e quale decisione prenderà la politica circa l'ampliamento della discarica che nessuno di noi vuole hanno sottolineato perché questo territorio ha già dato e debbono essere salvaguardate oltre alla salute dei cittadini anche le risorse indotte da turismo, artigianato, gastronomia. Inoltre hanno rimarcato si tenga conto del doppio parere negativo del Consiglio Comunale di Orvieto all'unanimità e della sovrintendenza. Quest'ultimo hanno specificato un parere che non è superabile. In aula l'assessore Fernanda Cecchini ha ricordato che la regione già dal 2011 ha escluso di ipotesi relativa al terzo calanco e ha detto che la sopraelevazione, che non è un ampliamento, è prevista dagli strumenti urbanistici anche se c'è parere negativo del Comune di Orvieto che però deve anche spiegarci, ha aggiunto l'assessore, come intende rispettare gli obiettivi del piano rifiuti visto che quell'ambito è di 10 punti percentuali indietro rispetto agli altri ambiti umbri. I sindaci, ha concluso Cecchini, si devono assumere le responsabilità di dirci come vogliono attuare il piano chiudendo la discarica e senza costruire inceneritori. La seconda commissione consigliare ha ultimato le modifiche al testo unico in materia di urbanistica che verranno adesso trasmesse all'aula consigliare. Ce ne riferisce in questo servizio Marco Paganini. Un atto importante che restituisce la piena operatività ad un testo unico di grande rilevanza per la vita dei cittadini Umbria e per l'attività delle aziende e delle imprese che operano sul nostro territorio. Così il presidente della seconda commissione, Eros Brega, ha salutato l'approvazione delle modifiche al testo unico dell'urbanistica predisposte dalla Giunta regionale per rispondere alle osservazioni del Governo nazionale. Tra gli ambiti modificati, le procedure per l'autorizzazione per l'attingimento dai pozzi e quelle per la revisione dei piani regolatori comunali, oltre ai canali di finanziamento per la manutenzione straordinaria e l'ampliamento dei sentieri. L'articolato, votato in larga parte nelle precedenti sedute, è stato dunque completato con le ultime modifiche su cui la commissione doveva ancora esprimersi. Il provvedimento è stato votato a maggioranza, da Partito Democratico, Socialisti e Ricci Presidente, riportando il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l'astenzione della Lega Nord. Saranno relatori in aula Eros Brega per la maggioranza, Andrea Liberati, Movimento 5 Stelle e Emanuele Fiorini, Lega Nord, per le opposizioni. Nella sala partecipazione di Palazzo Cesaroni si è svolta l'audizione della Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Assemblea Legislativa sul tema della geriatria. Vi hanno partecipato molti specialisti del campo e i dirigenti apicali della Sanità Umbra. L'Umbria è una delle regioni italiane con il più elevato indice di vecchiaia. Ci sono 221.000 ultra 65 anni su 891.000 residenti. Il numero di accessi di anziani in reparti dove, nella maggior parte dei casi, non dovrebbero stare pronto soccorso, emergenza, urgenza, è cresciuto nell'ultimo triennio del 6%. I geriatri vogliono collaborare a programmi di prevenzione, cura e assistenza dell'anziano fragile che non deve essere gestito come una patata bollente da spedire da un'altra parte ma non qui. Scontiamo, hanno detto, la scarsezza di ambulatori geriatrici, la disomogeneità dei servizi sul territorio, la cronica carenza di personale e l'assenza di un piano per la demenza. Sono alcune delle istanze emerse nel corso dell'audizione della Commissione Sanità e Sociale dell'Assemblea Legislativa presieduta ad Attilio Solinas. Necessaria una checklist di chi fa cosa, come, dove lo fanno, detto i geriatri, e serve un approccio multidisciplinare per la cura degli anziani, che non riguarda solo il fisico ma anche l'approccio psicologico. Quindi occorre una collaborazione stretta con il medico di medicina generale, con lo psicologo per individuare le fragilità, con l'ortogeriatra per i numerosi casi di frattura delle ossa, con il dietista per un'alimentazione che prevenga ulteriori problemi. I dirigenti della Sanità Umbra hanno riconosciuto che il modello delle cure primarie è inadeguato al cambiamento dei bisogni di salute con il forte incremento dell'accesso di anziani e non garantisce la continuità delle cure. Non ci sono risorse per la geriatria di territorio, si deve ricalibrare e diversificare in base ai nuovi bisogni. In prima commissione, audizione dei sindacati e della Giunta regionale sulla situazione del personale della Polizia Provinciale dopo la riforma del Rio. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria è tornata ad occuparsi di polizia provinciale. Dopo aver sentito i comandanti di Perugia e Terni, a Palazzo Cesaroni si è svolta l'audizione dei sindacati e dell'assessore Antonio Bartolini. Dai lavori è emerso che esistono ancora problemi per la ricollocazione di alcuni agenti, ma c'è fiducia di poterli risolvere. I segretari regionali della funzione pubblica di CGL Fabrizio Fratini, CISL Massimiliano Speranzini e Serena Sargenti e Will Marco Cotone hanno sottolineato come solo l'Umbria e altre tre regioni non siano riuscite a definire una soluzione per la Polizia Provinciale. La regione si è riappropriata di alcune funzioni importanti come caccia, pesca e lago Trasimeno, dove il servizio prima svolto dalla Polizia Provinciale deve essere mantenuto. Il problema centrale è che le persone devono seguire le funzioni. Ad oggi a noi risultano ancora 38 unità della Polizia Provinciale senza ricollocazione. L'assessore Antonio Bartolini ha spiegato che ad oggi sono solo 25 gli agenti della Polizia Provinciale che non hanno un posto, ma contiamo di risolvere la situazione. Le difficoltà sono dovute all'anomalia della situazione Umbra, visto che Perugia è la provincia con il numero più alto di osuberi in Italia. Abbiamo aperto un tavolo a Roma con il Ministero e uno con i Comuni. Non sono pessimista sul fatto che riusciremo a trovare un'ulteriore disponibilità di posti. Il Presidente della Commissione Andrea Smacchi ha ricordato che l'obiettivo non è disperdere, ma valorizzare al meglio un patrimonio di risorse umane fondamentale nello svolgimento delle funzioni di controllo stradale e ambientale. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la Regione. È disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa e su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.